La tratta di abusi sono costruzioni in deroga. Noi lavoreremo per rendere inedificabile tutta l'area del Feniestrelle. Ovviamente i diritti edificatori dei proprietari si realizzeranno nelle zone di concentrazione, quindi noi non toglieremo niente a nessuno, ma preserveremo questo polmone verde che è la vera risorsa della nostra città, dei comuni di Monteforte, Mercogliano, Atripalda, lungo questo corridoio ecologico passa la chiave del futuro della nostra realtà. Innanzitutto preserviamo il verde così com'è. Noi abbiamo sempre immaginato un parco naturale, agricolo, con degli attraversamenti, così come questo luogo e ovviamente lungo questo parco poi si possono innestare delle attività, soprattutto per i giovani, legate all'agriturismo, ai percorsi che portano verso i Monti Picentini, perché no anche dei percorsi a cavallo che si possono fare lungo gli argini del fiume. Cioè è la grande potenzialità della nostra città. Fu cristallizzato il parco, ricordiamo, nel PUC di Nunno. Ci sono stati ambientalisti come Ugo Santilelli che hanno fatto grandi battaglie per non far passare la strada sul parco, che era la previsione del secondo piano Petrignani. Ci fu una grande battaglia sia degli ambientalisti sia di alcuni grandi avvocati della città, ricordo tra gli altri Alfonso Palladino. Vinsero questa battaglia con il Comune. Ora se abbiamo questo polmone verde lo dobbiamo all'oro, lo dobbiamo alla pianificazione del PUC di Nunno Cagnardi. Noi dobbiamo vigilare affinché sul parco non ci siano abusi e il parco possa essere messo al servizio della città. Sono notizie che dispiacciono. Ovviamente noi non trucchiamo i concorsi. Pensiamo che i concorsi si debbano fare in trasparenza con delle agenzie che si occupano di questo. Non ne vale proprio la pena pensare che per accontentare un amico poi si penalizzano decine e decine di giovani che hanno studiato, che hanno fiducia nel futuro. Siamo qui anche perché c'è stato tutto questo. Noi non siamo uomini da dolce vita, noi siamo persone che così come il resto della nostra comunità vanno a dormire presto e si svegliano la mattina per andare a lavorare. Cingarolo, parlando sempre di concorsi, ha fatto un po' scalpore la notizia che l'Alto Calore, che sta qui vicino, ha indetto un bando per 554 assunzioni in un periodo dove ovviamente l'incertezza regna sovrana ad Alto Calore. Come è possibile? Lo stesso l'aveva fatto pure il piano di zona. Credo che prima delle elezioni sia opportuno sospendere tutte le procedure di concorso. la penso così, vale sia per gli avversari, a maggior ragione vale per gli amici. Accogliamo questa notizia con grande piacere. Il parco del Fenestrelle era un obiettivo sia del Movimento 5 Stelle, sia nel programma del candidato sindaco e poi sindaco Ciambi, sia quando sono stato io candidato sindaco. Ci tenevamo in particolare perché il parco del Fenestrelle è un corridoio ecologico, è un luogo importante per Avellino dal punto di vista storico, si raccorda con un possibile parco archeologico che è ad Atripalda, quindi la vecchia Bellinum. è il luogo dove gli avellinesi, insomma, nell'antichità avevano i mulini, anche se c'è una piccolissima traccia di questo passato, ma comunque ancora nella memoria degli avellinesi e fa parte della storia degli avellinesi. e costituisce un punto importantissimo per conservare la biodiversità perché è un corridoio ecologico tra il Partenio e i Picentini. Quindi in sostanza la reggimentazione delle acque, rivedere la vegetazione ripariale, rivedere la possibilità di percorrerlo o in bicicletta o a piedi è certamente per gli avellinesi una possibilità che riporta una parte di Avellino importante al centro della città.